Se ne riparla tra due anni, prima nessun posto disponibile. Graziella Bucchi, residente al Poderino di Fano, da settimane è alle prese con il numero regionale del CUP, il centro unico di prenotazione. Chiama e richiama ogni giorno, nella speranza che si liberi un posto per eseguire un ecodoppler al collo, ma per ora il primo appuntamento disponibile è per il 2024. Graziella, da quanto tempo sta cercando di prenotare questa visita? Adesso ormai un mese e più. E che cosa le è stato detto? Mi è stato detto che Fano non apre per niente, non è aperto proprio l'iscrizione, né Fano né Pisoro. Purtroppo dovrebbe andare fuori e fra due anni, però ha anche il problema che non guida l'auto, quindi dovrebbe chiedere aiuto. 84 anni ti metti a 100 km, per Giacomo, a Lugo di Romagna insomma. Non è una cosa giusta, praticamente le tasse le paghiamo, l'IMSS la paghiamo e allora non me le fate pagare, con quei soldi ci pago dove devo andare. E si vede costretta ad andare in una struttura privata? Per forza, e dopo i soldi in tanti, 82 euro in tanti. Ho fatto la prova per l'allergia due o tre mesi fa perché sono allergica a quelle bottigliette che si pullava le mani. 200 euro. Ha avuto problemi anche per un'altra visita che poi per fortuna è riuscita a fare? L'ho fatta, con 200 euro a pagamento. Perché anche lì insomma c'erano problemi di appuntamenti? Sì, sì, mi ha detto Emma, il dottore mi ha detto vacci a pagamento, non sarà una gran spesa. Quanto sono lì? Quindi lei vuole lanciare un appello al sistema sanitario regionale? Io sono da smuovano perché basta che vai nella Romagna, qui vicino, va meglio che da noi. E invece qua ci vuole tanto tempo? Tanto tempo, degli anni, i mesi e poi? E invece quella che ho fatto per l'aspiramotria adesso, dopo ho chiamato la direzione giù all'ospedale dove si fanno i reclami, mi ha detto, ah ma non c'è il posto fino all'anno prossimo, ah va bene, se mi viene sul respiro come fai? E mi ha richiamato, non so se l'ho richiamata io, non me lo ricordo, il giorno dopo, dopo due giorni. Io ho chiamato il martedì, il giovedì, al mezzogiorno e un quarto, pronta, c'ero solo io. Quindi a volte fare qualche reclamo può servire? Ma se tutti facciamo, eh non c'è il posto, quanto su smuov sta facendo? Mai!